lettoria.it gli incantevoli scarti cento romanzi di cento parole di eugenio baroncelli chi cerca trova veramente si trova sempre quel che non si cerca e mai quel che si cerca per esempio l'appunto con l'orario del sospirato arrivo di zoe a fiumicino il piano frugò senza successo tutta la casa pregava ancora il dio che ci nasconde le cose quando fra due camice che non indossava più ma che non osava buttare trovò la lettera di adua sapeva che rileggere e sguazzare nell'irrevocabile passato ma la rilesse a noi suoi contemporanei potrebbe riassumerla così arrivo a rimini con l'accelerato delle otto e ventidue che ora è le otto se corre se ha fortuna può farcela carta incanta romanzi epistolari clara un sì può essere un no o viceversa dipende dallo sguardo dai moti della mano dal tono della voce ma i biglietti quello di clara diceva ti aspetto edmondo raggiungimi quassù seguiva perché lui non si perdesse un pittoresco schizzo del percorso freccette corrucciate deviazioni imbronciate nomi delle località tirati via che quasi non si leggevano edmondo cercò nel cielo una pierondine fattucchiera disposta a guidarlo ma non la trovò edmondo che era un cucciolo d'uomo si avviò con una vecchia speranza nel cuore e una nuova certezza nella testa che se esiste una piantina sgarbata era quella ci vuole racconti sensuali ci vuole gusto mi scriverai ti scriverò promise stella fu di parola la prima lettera sapeva di terra veniva dal giardino in cui piantava le patate dolci la seconda sapeva di mare leggeo in cui si tuffa tra una frase e l'altra la terza sapeva di pioggia l'avrà presa sulla strada per l'ufficio postale la quarta sapeva di fumo veniva dalle notti in cui covava il fuoco delle sue eterne camel senza filtro la quinta sapeva di sangue l'ultimo sangue che esce da una ferita mortale la sesta sapeva di tenebre come una bottega chiusa la settima profumava di lavanda come i morti diletti delitti favole in rosa e nero amalia amalia aveva la fobia del fuoco bastava che vedesse un incendio anche alla tv e correva via per lo spavento amalia aveva la mania delle pulizie teneva più scope in casa lei che un grossista di scope in magazzino amalia aveva il tormento dell'età ogni due anni ma non mettendo le rughe passaporto se ne toglieva uno alfonso la capiva pagò il suo calendario più venale perché offeso si decidesse a ristabilire la verità convince una tempesta di sabbia del deserto di moyav a seppellirle la casa affittò un tramonto rosso come il sangue perché con quella sera incendiasse lei grazie a tutti grazie a tutti